Oggi abbiamo raggiunto quota 53, quindi abbiamo superato quello che era l'obiettivo, il nuovo obiettivo che ci eravamo posti dopo la quota salvezza era superare i punti fatti lo scorso anno. Oggi con la vittoria ottenuta sul campo di Avellino, un campo difficile contro una squadra molto ma molto forte, abbiamo raggiunto questo nuovo obiettivo, adesso bisogna porsene di nuovi e quindi permettetemi di dedicare questo obiettivo raggiunto ai tifosi del Picerno. Io purtroppo con loro dopo una partita che non ho fatto bene ho avuto un piccolo battibecco e gli chiedo scusa per quello che è avvenuto e da quella partita fino ad oggi sono stato in silenzio, non ho parlato, non sono andato mai ad esultare e a ringraziarli per il loro sostegno e oggi permettetemi di dedicare questa vittoria a tutti i tifosi del Picerno e di chiedere scusa per quello che era accaduto. Permettetemi un'altra cosa, mi allaccio un attimo alle parole del mister, il Picerno non è più una sorpresa, il Picerno secondo me, non secondo me, secondo molti addetti ai lavori è ormai una realtà consolidata in Lega Pro, certi risultati non si ottengono per fortuna o per grazia ricevuta, quindi mi è dispiaciuto un attimo magari ascoltare l'intervista pre-gara di mister Rastelli quando ha detto che la gara di andata ce l'ha regalata sul piatto d'argento, a noi non ci ha regalato niente nessuno e spero che oggi non ci dica che ci ha regalato la vittoria sul piatto d'oro perché penso che sul campo abbiamo dimostrato di essere una squadra che gioca a calcio e le posso assicurare che in questo girone sono poche le squadre che giocano al calcio, il Picerno è una squadra, è la squadra che costa di meno in tutto il girone C, è la squadra che ad oggi ha realizzato un maggior numero di minutaggio, quindi utilizzo di giovani ed è una squadra che ha numeri importanti sia in classifica che per quanto riguarda i dati statistici di gol subiti per esempio veniamo subito dopo le prime due in classifica, quindi questi numeri significano che dietro a questi numeri c'è tanto lavoro c'è il lavoro del mister, del suo staff, uno staff di grandissima professionalità, di gente veramente di grande competenze come giustamente diceva il giornalista poco fa, è strano come nessuno abbia notato il lavoro di mister Longo in questi anni solo io ho avuto il coraggio di fare questa scelta, poi dopo tutti quanti mi fanno i complimenti, anche altri direttori mi fanno i complimenti però purtroppo nessuno ha avuto il coraggio e nessuno ha saputo leggere quelle che sono le qualità di questo staff il valore aggiunto della Z Picciano oggi è mister Longo con il suo staff perché veramente lavorano ogni giorno in maniera seria e professionale e la squadra ogni giorno porta a casa sempre qualcosa di nuovo e quindi poi lo dimostriamo sul campo la domenica chiedo scusa se mi sono permesso di fare qualche appunto però oggi Picciano è una realtà che merita rispetto non siamo una sorpresa, ripeto dietro questi risultati c'è tanto tanto lavoro che è stato fatto personalmente da me in questi tre anni e grazie alle scelte che ho fatto voglio dire stiamo ottenendo degli ottimi risultati speriamo con grande umiltà di continuare il nostro percorso perché dobbiamo rimanere umili il 24 aprile vedremo dove saremo in classifica, se saremo nei play-off come penso che ormai saremo nei play-off affronteremo una nuova competizione ma sempre con grande rispetto verso gli avversari e con grande umiltà Ceccarelli lo conosco da tanti anni, da quando io lavoravo su Al Nord a Lumezzane lui era nella Feralpi Saloma, ha sempre impressionato la qualità di questo calciatore e quando ho visto che purtroppo non veniva utilizzato in una rosa competitiva io penso che lui non abbia niente di meno rispetto agli altri calciatori che comunque compongono questa rosa parlando con il direttore di Vito a cui faccio i complimenti per la squadra che ho costruito qui ad Avellino perché non è facile portare giocatori di questo calibro ad Avellino in una situazione particolare di classifica e quindi lui a gennaio è stato bravo a prendere giocatori di categoria superiore che potevano benissimo accettare altre proposte, quindi complimenti ad Enzo per il lavoro svolto Ceccarelli appena c'è stata la possibilità l'ho corteggiato per più di un mese il mio progetto da cui prendo spunto e prendo esempio e spero un giorno di raggiungere quei risultati è il Cittadella, il Cittadella quando è entrato nel calcio professionistico purtroppo tanti erano diffidenti quando il direttore di Cittadella chiamava un calciatore per andare a Cittadella e riceveva tanti no, tanti rifiuti fino a quando poi dopo il Cittadella con i risultati ha dimostrato credibilità questo è quello che sta accadendo oggi a Picerno io ho corteggiato Ceccarelli per un mese, Ceccarelli non conosceva la realtà Picerno però le posso assicurare che appena è arrivato a Picerno ha detto io non ho mai trovato un'organizzazione, una serietà e tante competenze nella mia carriera quindi questo dimostra la bontà del nostro lavoro Ceccarelli oggi è uno dei giocatori più importanti che abbiamo in Rosa speriamo di fare con lui un percorso importante e di ottenere dei risultati importanti grazie grazie grazie